Avevo infezioni alla gengiva, avevo la piorrea e mi mancavano un sacco di denti e quelli che avevo, che mi erano rimasti, erano andati. Mi chiamo Francesco Tassone e vengo dall'Italia, la Calabria. Oggi è l'ultimo mio giorno, perché vado via che ho finito tutto. Finalmente posso sorridere e poi sono pure molto contento dell'estetica. A me le protesi metti e togli non mi piacciono, ho voluto i denti fissi. Sono venuto qua, mi hanno consigliato su cosa si può fare, come bisogna fare. Ho fatto gli impianti, sei sotto e tre sopra. Ho fatto anche la ricostruzione dell'osso, rialzo il seno macellare. Mi stavo mettendo quasi a piangere, perché è una una grossa differenza. Ho mandato pure le foto a casa quel giorno, subito. Tutti mi hanno detto che sembro di dieci anni, sono il giovanito di dieci anni in faccia. Sono stato in tante cliniche in Italia e mi hanno fatto dei preventivi stratosferici che difficilmente uno della mia posizione può affrontare 30-35 mila euro per fare i denti. È impossibile. Invece qua, con molto meno della metà, ho fatto il lavoro, mi sento bene ora finalmente. Il personale è proprio umano, cioè cordiale, educato, si mettono a disposizione, quindi per questo non ho assolutamente attraverso. Grazie a tutti.